Rubiter la sentenza, Silvio Berlusconi e gli altri imputati assolti perché il fatto non sussiste. Bene, la giustizia fa il soccorso, io sono garantista e sono felice così. Il mio commento in questo caso è solo per tutti coloro che contestano le politiche Berlusconi, hanno sperato negli anni che Silvio Berlusconi fosse fatto fuori da sentenze per questioni più o meno morali, io non entro nel merito perché non mi interessano, ci sono le procure, le magistrature, i tribunali per queste cose e non ne voglio parlare io, io sono sempre sostenuto che Berlusconi va combattuto sul tavolo quello politico e quindi dobbiamo costruire delle alternative che rendano obsolete il suo modo di pensare, obsoleto la sua politica, che coinvolgano le persone e su quello è il piano cui andava sconfitto e su cui andrà sconfitto lui e quelli che portano avanti delle politiche di mantenimento dello status quo.